Ciao, ciao, ciao Ciao Allora, questa sera suoneremo noi e meno male Cioè, noi siamo il gruppo importante Esatto, dopo il gruppo importante ci saranno gli airwood e dopo gli airwood ci saranno i dottomiboletti La serata è organizzata da la situazione serca urbana con la professione coerobato.org e un po' di soldini del comune di .com e insomma Provate il punto Allora, vedo che Siamo lì da santa, vi rompiamo le scatole a un quarto d'ora, venti minuti al massimo Bene State qua e non scappate No, e lì dopo il problema No